Oggi con amici di Facebook torniamo a parlare di Xiaomi, questo marchio cinese che mi piace tantissimo, ormai ci sarà capito, ho fatto mille video su questo brand, su questa azienda cinese perché semplicemente lavora molto bene, quindi grande design, grandi prezzi, grande software, grande hardware insomma grande tutto, è incredibile, fa quasi incazzare per quanto riesca a produrre ottimi prodotti un gran peccato che non sia importato ufficialmente in Europa, in Italia, per cui ricordatevi sempre che tutto quello che vi consiglio di questa marca non avrà una garanzia vera e propria ma sarà importata direttamente dalla Cina, chiaramente i prezzi sono talmente bassi soprattutto per i prodotti che consiglio di solito, che sono roba attorno ai 20, 30, 50 euro al massimo che si può anche soprassedere sull'assenza di garanzia questa volta parliamo di un prodotto particolare, è parte di questa nuova serie di router creati da Xiaomi c'è sia un router base, che è semplicemente appunto un router e costa veramente pochissimo attorno ai 20 euro addirittura, che vi consiglio se vi serve semplicemente un router ma da poco c'è anche questo che integra un hard disk al suo interno, in questo caso da 1 tera c'è anche la versione da 2 tera che ha delle funzionalità aggiuntive molto interessanti che andiamo a vedere insieme andiamo a spacchettarlo, andiamo a vedere il software di gestione sia mobile che desktop che sono fatti davvero molto bene oh ecco qua la scatola, solito packaging Xiaomi con il cartoncino riciclato super mini che si chiama R1D, questo router, lo andiamo ad aprire subito mi è stata un po' rovinata la scatola, devo dirlo questa volta il corriere non ha lavorato benissimo comunque vado ad aprire, non c'è nulla da rompere purtroppo questa volta per cui vi faccio vedere direttamente il contenuto la parte interna è sempre nera così e c'è il router vero e proprio al suo interno eccolo qua adesso ve lo faccio vedere anche per bene comunque un gran bel design come al solito Xiaomi insomma in questo è veramente formidabile bel design, come dicevo prima, ottimo l'hardware, ottimo il software e alla fine anche ottimo il presto per cui è veramente difficile resistere all'interno della scatola è presente ovviamente anche l'alimentatore in questo scompartimento qui laterale eccolo qua come vedete è un alimentatore cinese ma viene fornito anche l'adattatore europeo in modo tale che possiate collegarlo senza dover voi comprarvelo l'alimentatore supporta vediamo se riesco a leggerlo da 100-240 watt quindi senza problemi potete adattarlo direttamente collegarlo alle prese della 220 casalinga tolgo con grande piacere la plastica mi fa sempre godere questa parte via tutta l'alimentatore è anche carino eccolo qua vediamolo un po' a girare così ce lo guardiamo per bene il design come al solito è super minimale vedete nelle parti laterali lì in alto sono delle griglie di areazione il router è dual band ac 2.45 gigahertz quindi creerà due reti distinte come fanno i router moderni sul retro vedete le porte che vi dicevo prima dall'alto l'usb 2.0 non è una 3.0 due porte ethernet gigabit una porta per collegare il modem il reset e l'alimentazione all'interno c'è un processore Broadcom da un gigahertz dual core 256 mega di ram direi ottimo il processore per questo uso riesce a gestire molto bene diverse connessioni e appunto diversi device sia in wireless che in collegamento via cavo sono un po' poche forse due porte ethernet però è anche vero che oggigiorno ormai ci colleghiamo molto di più in wifi che via ethernet poi sta a voi decidere se vi basteranno quelle due singole porte ethernet su questo router oppure se avete esigenze particolari che necessitano di molte più porte ethernet le dimensioni sono direi molto contenute è alto 16.8 cm è profondo 12 cm ed è largo 6.4 cm supporto ovviamente collegamento Samba all'hard disk esterno ma come vedremo anche attraverso l'app mobile e il browser insomma con una classica interfaccia via browser è supportato anche OpenVRT non ufficialmente da quello che ho capito ma ci sono svariati thread sul forum ufficiale in cui si parla di questo router e c'è modo insomma di avere accesso al firmware OpenVRT le parti interne sono praticamente identiche a il router base di cui vi parlavo durante l'introduzione quello da 20€ per intenderci che non include l'hard disk che è molto più semplice e che ha le antenne esterne invece che interne questo ha due antenne interne quello di cui vi parlavo ne ha ben quattro e ha sempre però solamente due porte ethernet per cui è praticamente identico poi vi faccio vedere anche come funziona il software su iPhone e su Android chiaramente bisogna collegarsi alle reti che crea questo router nel mio caso Xiaomi Itomi 5G e anche Xiaomi Itomi crea chiaramente il nome della rete l'ho data io durante la configurazione iniziale che è molto semplice e poi basterà lanciare l'app di gestione MiWiFi che è disponibile anche su Android ve la faccio vedere anche di qua così si sta collegando ora anche su Android collegata e poi lancio anche qui MiRouter le faccio vedere sono praticamente identiche dovrete durante l'installazione dell'app registrarvi o loggarvi con il vostro utente Xiaomi è sempre lo stesso per cui se avete altri prodotti potete tranquillamente usare quello nella schermata principale MiRouter in basso vedete che sono praticamente identiche sia per Android a destra che per iPhone a sinistra si vedono tutti quanti device collegati in questo caso il mio iMac e poi l'Apple iPhone che riconosce e di cui mette anche l'icona guardate che carino che è e il Nexus 5X che riconosce con un'icona generica di LG poi c'è tutta una parte dedicata allo storage in cui potete vedere le cartelle interne dell'hard disk vi arriva con già delle cartelle vuote music, download, share, videos, eccetera generiche insomma niente di che si possono vedere gli upload e i download in corso riordinare e selezionare qualcosa eccetera e si può accedere direttamente non ricordo se ho messo poi un'immagine o no non ho messo nulla però in questo caso mi propone di aggiungere un file per cui non so per esempio add file photos and videos vediamo se ho qualcosa sullo smartphone esatto scelgo una foto qualunque upload file trasferito e per cui a questo punto tornando indietro dentro magari da quest'altro dentro photos dovrei vedere esatto l'immagine che ho caricato da Android la vedo qua su iPhone eccola qua compare molto semplicemente la stessa cosa chiaramente può essere fatta anche da desktop in alto ci sono tre filtri principali folders, photos, videos semplicemente vi filtra il tutto per immagini o per video o per cartelle poi in basso andiamo a vedere ancora c'è online online si chiama su iOS mentre view videos su Android non cambia praticamente niente semplicemente qui si possono mettere in download dei file esterni dandogli direttamente un URL da scaricare quindi manualmente come in questo caso si incolla direttamente l'URL e lui si occuperà di scaricarlo oppure addirittura con un QR code che non so bene come funzioni questa è forse una roba più per i China che hanno queste robe qua ultima cosa ma non ultima importantissimo i plug-in vengono chiamati semplicemente delle funzionalità aggiuntive disponibili anche su mobile sono 12 e sono uguali per tutti i due sistemi che faccio vedere su iOS ok andiamo a vedere tutti quanti i setting presenti quindi internet mode setting semplicemente si può impostare insomma in questo caso IP dinamico da internet tutti i setting del Wi-Fi quindi crea due reti differenti come vi dicevo 2.4 e 5 gigahertz come tutti i redditor moderni per ognuna è possibile impostare insomma password diverse e più volendo si può impostare anche una rete guest a cui far collegare i propri amici in casa eccetera in questo caso è disabilitata poi tutti i setting dell'hard disk interno permission on off e si può formattare il disco poi i setting per i download si possono schedulare quindi aggiungere nuovi schedule a il download ogni giorno start, pause eccetera è molto figo questa parte qua si può resettare qui la password di amministratore del router si possono gestire gli update del router in questo caso è già aggiornato e si può schedulare l'auto update in questo caso è impostato alle 4 di notte poi le impostazioni della time zone per la data e l'ora vabbè un generico about in cui si può cambiare anche il nome del router in questo caso io l'ho chiamato Xiaomi Tommy voi li potete chiamare come vi pare ovviamente e controllare gli update abbiamo visto si può impostare una rete VPN se siete dietro a una rete VPN poi reboot, power off restore to factory settings e un-pair si parla di un-pair semplicemente perché c'è da fare un-pair la prima volta che lanciate l'app tra l'app stessa e il router collegato alla stessa rete poi andiamo a vedere il resto ancora updates in questo caso è tutta una sezione dedicata agli aggiornamenti del firmware del router che è da quello che ho capito aggiornato veramente molto frequentemente insieme agli altri router di Xiaomi della serie Mi Wi-Fi sono tre attualmente il base di cui vi ho parlato in un'introduzione questo con un hard disk da un terabyte poi c'è un altro fatto diversamente con un hard disk da 2 terabyte poi c'è tutta la gestione del firewall interno in questo caso è spento si possono gestire un po' tutto quanto insomma una lista di device bloccate tante cose che adesso interessano fino a un certo punto Wi-Fi Boost questo è un servizio cinese che non ci interessa questo è molto interessante invece foto backup si può attivare il backup delle foto interne al proprio smartphone anche su Android funziona esattamente nella stessa maniera foto backup eccolo qua proprio identico e lui farà un backup sull'hard disk interno del router di tutte quante le foto oppure si può scegliere si possono scegliere i diversi folder quindi di lì non tutte quante ma solamente alcuni dei folder della propria libreria molto interessante questa parte qua non tanto per il backup generale che magari già fate su iCloud o su Google Photos ma magari ci sono delle cartelle particolari sul vostro smartphone che volete salvare sull'hard disk all'interno del router per poi riaverle sempre in rete locale fondamentalmente anche sui propri PC o sui propri Mac insomma è una cosa che può essere molto utile poi cost quality of service questo è molto figo è una cosa che hanno tutti quanti gli ultimi router ed è la gestione dei singoli device e del loro accesso alla connessione a internet cioè di quanta banda possono utilizzare si può abilitare e disabilitare e ha tre modalità diverse automatica semplicemente si occuperà il software di riconoscere i diversi device quindi se è uno smartphone se è un televisore se è un computer e dargli diverse priorità oppure priority cioè impostate voi per ogni device collegato in questo caso vedete sono i tre device che vi ho fatto vedere prima e lì si può dire per ognuno io ho dato massima al Macintosh media Android e bassa agli iPhone in generale vi consiglio di dare una priorità bassa agli smartphone e ai tablet che come sapete quando sono collegati in wifi spesso magari si collegano per fare upload o per scaricare tantissima roba aggiornamenti eccetera quindi dateli bassa priorità se magari Netflix funziona male ora sapete perché magari c'è sotto il tablet che scarica a palla avere la possibilità di avere una quality of service si chiama un servizio di questo tipo che quindi un router che vi gestisce diversamente i diversi device è molto molto figo soprattutto oggi che avrete tanti device collegati l'ultima modalità che non vi ho detto è custom in cui potete addirittura impostare per ogni singolo device un limite di banda in K al secondo in upload e in download quindi molto figo questo quality quality of service e qui capisce da solo la vostra banda e la riaggiorna mano a mano e si può impostare anche la banda massima per la rete guest di cui vi parlavo prima se ne avete una attiva poi router backup semplicemente file backup dei file su una rete cloud e delle impostazioni non mi interessa a me storage info va a farvi un riassunto del contenuto dell'hard disk come vedete diviso anche per video foto music files others eccetera share router non so cos'è share router with your friends share friends can access file stored ok si può dare accesso all'hard disk interno anche ai propri amici creando insomma un account al volo per gli amici wifi off timer si può far spegnere la rete o le reti wifi in certi orari della giornata questo è molto comodo magari durante la notte spegnete in automatico il wifi perché magari avete paura che qualcuno si colleghi o che ne so io reboot timer si può dire al router di fare un reboot un restart ogni tot impostando nuovi orari vedete repeat everyday reboot time con un orario oppure workdays custom eccetera ha fatto molto bene e l'ultimo è power of timer stessa cosa ma si andrà a spegnere invece che a riavviare con anche qui repeat everyday oppure workdays custom eccetera ha fatto molto molto bene questi sono plugin che poi vengono aggiornati e verranno aggiunte anche altre funzionalità è fatto veramente non smetterò mai di dirlo molto bene il software di xiaomi in questo caso particolare soprattutto se paragonato insomma ad altri router magari più blasonati che non hanno minimamente questo tipo di software mobile e come vedremo vi faccio vedere al volo anche ora com'è la gestione via browser che è quella che hanno i soliti router più appunto più custosi anche più famosi insomma un bellissimo design un'ottima UI e UX come si dice quindi un ottimo design estetico di grafica dell'interfaccia ma anche dell'uso della user experience è molto facile da utilizzare e da capire quindi promosso a pieni voti il software di questo router il design l'avete visto molto carino l'hardware è assolutamente al passo con i tempi e non incredibile ma comunque fa quello che deve fare soprattutto per il costo che ancora una volta Xiaomi si dimostra avere un prezzo incredibile perché questo router è venduto attorno agli 80 euro con dentro un disco da un terabyte quindi fatevi un po' una botta di conti e capirete che è veramente un ottimo ottimo affare se vi piacciono i miei video le mie mini recensioni fate un bel like fate uno share abbonatevi al canale mi raccomando e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi